ecco accetto due o tre domande che ho visto che nessuno qui accetta domande è una singolare novità nella storia invece se ne avete due o tre io rispondo volentieri io penso questo insomma la situazione è nota sia il risultato elettorale sia il meccanismo della legge elettorale fossimo in altri paesi questo problema non ci sarebbe in questo paese il problema c'è io intendo che possa essere superato questo problema mettendo il parlamento le forze parlamentari e i parlamentari di fronte a un'assunzione di responsabilità la responsabilità di avviare la legislatura e di avviarla nel segno di quello che gli italiani ci chiedono molto semplicemente molto semplicemente dobbiamo fare alcune cose semplici che gli italiani ci chiedono così può partire un governo con meno di questo non c'è nessun governo che può partire non per i numeri parlamentari ma per l'opinione pubblica italiana compresa a partire l'opinione pubblica che rappresento io col mio partito quindi noi proponiamo questa chiave nelle forme nei percorsi che naturalmente starà al presidente valutare segretario segretario ma guardi ci spero io spero che ci sia la buona soluzione penso di potere e spero di poter dare una mano questa soluzione ecco se ci conosciamo con qualcuno di voi si potrà mica pensare che metto davanti i problemi personali io sento il mio partito sente di avere una responsabilità di esercitare di fare qualcosa per questo paese punto sia chiaro che questa è la nostra intenzione metterci a servizio dare una mano per trovare una soluzione non qualsiasi perché un governo senza la possibilità di dare un segno di cambiamento non potrebbe essere la soluzione ci porterebbe porterebbe il paese a guai peggiori ultima sì ultima domanda in realtà sono due quindi diciamo lei pensa anche a un piano b dunque rispetto al fatto che aveva detto tocca a noi cioè anche a lei questa volta a fare questo tentativo e la seconda domanda è lei ha detto ci rivolgiamo a tutte le forze politiche vi rivolgete anche al popolo della libertà allora io non ho di piani b e fatemelo dire non è anche piano a nel senso che ho portato la nostra riflessione le nostre proposte non è che si arriva qui con dei piani bisogna vedere qua con rispetto del ruolo del presidente della repubblica e cercando di dire cosa a nostro avviso può essere utile per uscire una situazione difficile impostare la legislatura quindi noi abbiamo posto questa cosa che ho detto punto non c'è altro non diciamo noi che abbiamo avanzato subordinati o altre ipotesi perché se stiamo la politica il ragionamento che ho fatto è l'unico ragionamento che secondo noi può dare una prospettiva di avvio di legislatura grazie a tutti grazie a tutti